How far we come now, 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 now There's beauty and a unity we found E' il cammino un po' largo Vi può celebrare l'Ubben Va, 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 va La, 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 la E' il cammino un po' largo Vi può celebrare l'Ubben Va, 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 va La, 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 la Ragazzi oggi siamo tornati dal mare Guardate che bei costumi che abbiamo Molto marittimi Tutta la family oggi rabbinata Yes Adesso facendo una doccia Se volete scoprire tantissime idee di costumi coordinati e abbinati Fate swipe up perché sul sito di Calzedonia ci sono un sacco di cose bellissime Marco Io la spazio Siamo pronti per il red carpet? Vi faccio vedere l'abito di Bea? No, no Marco e Marco sono andati sul red carpet Sono bellissimi Bea aveva un abito incredibile Non vedo l'ora che tornino E di vedere le foto Meravigliosa 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 Salute tutti Ho però il bandanero Meravigliosa Grazie a tutti 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 Buongiorno oggi si pedala Eccoci presenti